Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino al 30 di ottobre nella fascia oraria 22.6 attiva la riduzione di carreggiata nel stratto compreso tra lo svincolo Baronissi e il Bivio-Salerno-Reggio Calabria in entrambe le direzioni. Sulla tre Napoli-Salerno per lavori di realizzazione della nuova rampa d'uscita dello svincolo Pompei-Ovest e attiva la riduzione di carreggiata nel stratto compreso tra le uscite Torre Annunziata-Sud e Pompei-Ovest in direzione Salerno. Su raccordo Salerno-Avellino fino al 31 dicembre per lavori attiva la riduzione di carreggiata tra le uscite Solofra e Montoro Nord verso Salerno. Sulla strada statale 7 Quater-Domiziana fino alle 17 di oggi è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le località Mondragone e Castelvolturno in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino alle 17 del 23 dicembre sono chiusi il tratto compreso tra gli svincoli Somma-Vesuviane-Ottaviano-Zona-Industriale in direzione Angri e tra le uscite Ottaviano-Zona-Industriale e Ottaviano-Centro verso Napoli. Infine sulla tangenziale di Salerno dalle 22 di stasera alle 6 di domani è attivo la chiusura del tratto tra gli svincoli Sala-Bagnano e Passena verso Ponte Cagnano. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossella Altamura.